Bene, grazie, bentrovati cari amici e cari amiche. L'Europa, l'oggetto della mia breve comunicazione, oggi è divisa nella concezione dei fini ultimi del progetto europeo tra governi europeisti da un lato e governi nazionalisti, populisti e sovranisti dall'altro. Una divisione che chiama in causa chi vuole cedere quote di sovranità all'Europa coordinate con le sovranità nazionali e chi ritiene assoluto l'unico livello di sovranità nazionale anche in contesti globali. Da questa divergenza strategica di fondo derivano contrasti politici sistemici sull'armonizzazione delle politiche economiche fiscali, delle politiche migratorie, dei diritti civili, dei diritti sociali, della politica interna e della politica estera. La divergenza riguarda la concezione stessa della democrazia tra un'Europa intergovernativa e un'Europa pienamente democratica legittimata dai suoi popoli in libere elezioni su liste europee. Da divergenze di questo tipo, secondo la CISL, l'abbiamo già detto nel nostro manifesto per gli Stati Uniti d'Europa, si esce con un'Europa a due velocità. Definendo dei gradi differenziati di appartenenza, un'appartenenza a bassa intensità l'unione del mercato e un'appartenenza ad alta intensità l'Eurozona che decide nei tempi e nei modi opportuni di puntare all'unione politica. I nazionalismi non sono nati per caso come Minerva dalla testa di Giove. Sono i figli ai noi legittimi della stagnazione nella quale è precipitato il progetto europeo dopo la sconfitta del referendum del 2005. Sono figli ai noi legittimi delle politiche di austerità fiscale con le quali l'Europa ha affrontato la doppia recessione 2008-2009, 2011-2014. I nazionalismi hanno condotto la Gran Bretagna alla Brexit. Oggi governano in Polonia, in Ungheria, in Repubblica Ceca, in Slovacchia, in Austria. Sono componenti fondamentali delle coalizioni di governo sono in Bulgaria, Lettonia, Belgio, Paesi Bassi, Finlandia, Danimarca. Sono maggioritari nei cinque lender tedeschi orientali. Anche in Italia i sondaggi li accreditano di consensi intorno al 45%. Il loro tratto comune è il tratto illiberale, soprattutto all'est. Non a caso la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro la Polonia per violazione dell'articolo 2 del Trattato di Lisbona sullo Stato di diritto. La Polonia infatti ha approvato, attraverso l'attività legislativa, la subordinazione della magistratura al potere esecutivo. La Polonia e altri paesi dell'est hanno dichiarato di non voler applicare la Convenzione di Istanbul, approvata dal Consiglio europeo, sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e contro la violenza domestica. I nazionalismi condividono con Trump l'esclusività degli interessi nazionali e l'inquietante armamentario ad essi associati. Protezionismi, barriere tarifarie, conflitti commerciali, guerre valutarie, lo scenario peggiore per il lavoro e la pandemia tossica preliminare che nei secoli XIX e XX ha generato le catastrofi delle guerre guerreggiate. I nazionalismi rimuovono, e credo che sia un misfatto etico e politico verso i loro popoli, la verità storica che l'interesse nazionale si difende nell'ambito del bene comune europeo, della convergenza multilaterale, della giustizia sociale e della pace. Per queste sintetiche ragioni credo che il manifesto per gli Stati Uniti d'Europa contro ogni muro per una nuova costituente presentato da Anna Maria Forlan il 25 marzo 2017 in occasione del sessantesimo dei trattati di Roma mantenga intatta tutta la sua dirompenza e tutta la sua attualità. a condizione che la volontà europea di recuperare l'ispirazione originaria prenda corpo subito prima delle elezioni europee del 2019. Quindi tempestività nella definizione della prospettiva e gradualità nell'attuazione con la priorità attuativa già nel 2018 del pilastro sociale europeo approvato a Göteborg il 16 novembre scorso e dei suoi 20 punti, dei suoi 20 diritti programmatici. con la priorità già nel 2018 di dar corso ai tre fondi da noi richiesti nel manifesto per l'Europa un fondo europeo integrativo dei sussidi di disoccupazione un fondo europeo integrativo del reddito di inclusione un fondo europeo di sostegno all'occupazione giovanile in quei paesi membri laddove il tasso di disoccupazione generale il tasso di disoccupazione giovanile il tasso di esclusione superino la media europea. a condizione che già nel 2018 si deliberi che le elezioni del 2019 debbano avvenire su liste europee. Il colpo d'ala perentorio quindi della visibilità del progetto da un lato e della concretezza attuativa dall'altro a partire dal binomio decisivo del lavoro e della democrazia decisivo per riconciliare l'Europa con aree vaste dei suoi popoli e riprendere con slancio la missione di civiltà per la quale è nata.